La compriamo, giusto? Sì, compreremo la casa. Penso che sarà il posto perfetto per noi. Loro hanno comprato da poco la vecchia casa di Peter e Jenny. Sai quello che è successo? Dovrò dormire dove lavoro, ma Shirin resterà qui. È così bello che io abbia... Tu diventerai la mia nuova mamma. Questo significa che morirai anche tu. Lucas ha raccontato una storia a scuola. Ci ha parlato di un suo nuovo amico che vive in casa con lui. Aiutami a uscire da qui. Ma che morto può tornare indietro? Lucas, vieni a giocare con me. C'è qualcosa di terribile in quella casa. E lui sta arrivando. Sei cattiva con noi? Lucas è mio! Vuoi non solo giocare con te? E lui? E lui? Suisse? Non solo giocare con te? Ricorre? Familiare un attività.